Nel progetto complessivo la cosa fondamentale è l'argine remoto. Insieme all'argine remoto è lo scavo di tutto della parte arginata dell'Alvenia. È di estrema importanza questo perché ci dà la possibilità di portare più velocemente possibile e creare un'autostrada dell'acqua che porti l'acqua al mare più velocemente possibile e più quantitamente possibile. Iniziamo a togliere le piante per poi togliere la terra e portarla direttamente per costruire l'argine remoto. La terra è stata tutta catalogata, è stata fatta l'analisi, siamo abbastanza in linea con tutto però logicamente siccome sono metri o due di terra e va portata via bisogna farlo nel periodo estivo. Grazie. 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 Grazie.